Riteniamo che sia il Ministro degli Interni Alfano che il Presidente del Consiglio non stiano tutelando gli italiani. Sono venuti in aula alla Camera e al Senato in più di un'occasione a dirci che non era vero il fatto che sui barconi ci fossero dei possibili terroristi. Sono venuti in aula in più di un'occasione a minimizzare quando la Lega e anche altri, anche a livello internazionale, veniva detto e veniva posta l'attenzione. In più di un'occasione hanno detto, anche sugli organi di informazione avevano riferito dicendo che andava tutto bene, in più di un'occasione hanno dato dei razzisti, hanno detto che la Lega stava facendo sciacallaggio politico. La Lega non stava facendo sciacallaggio politico. L'esempio è quello che è successo, l'esempio è quello che abbiamo visto in queste ore e di conseguenza riteniamo che oggi come oggi Alfano e Renzi si debbano a questo punto riferire non più al Senato alla Camera ma agli italiani e alla magistratura.